buongiorno a tutti qui oggi è il 27 febbraio ieri e oggi ha nevicato qui nel gargano vicino ischitella è raro che qui fa la neve però l'ha fatto tutto ghiacciato ecco ma stiamo andando a ischitella tutto bianco domani dovrebbe calmarsi la neve tutti gli alberi per terra qua ora ci vuole fare la motosigma arriva l'altra neve abbiamo visto il meteo oggi e domani anche domani pomeriggio dovrebbe calmarsi bene abbiamo fatto questo piccolo video per farvi vedere qua la neve va niente di che volevamo ringraziare anche gli iscritti dei consigli che ci hanno dato su pin point i complimenti che ci continuate a fare i nuovi iscritti continuate a iscrivervi grazie ancora buona giornata a tutti ciao 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 a tutti